Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini. Ricominciano le nostre dirette finalmente. Dopo tre settimane di zona rossa ritorniamo in zona arancione. Questo ci permette, naturalmente con alcune precauzioni di cui vi parlerò fra un po', di tornare con le nostre dirette. Sono le 10 e un minuto. Diamo subito i nostri contatti 351 708 9977 è il numero attraverso il quale con Whatsapp potete inviarci un commento, una battuta, una frase, una fotografia, un messaggio vocale. Insomma, quello che preferite per vivere al meglio con noi questa opportunità data dalla diretta. Oppure Casarossini, chiocciolarossinitv.it per chi magari non avesse Whatsapp e preferisse lo strumento della mail o magari ha altro materiale da inviarci per la puntata. Il format segue sempre lo stile a cui siete abituati ormai da 44 puntate. Oggi è la 45esima e che avete avuto modo di vedere comunque anche durante le tre settimane di pausa dalla diretta attraverso una selezione delle repliche che sono andate in onda puntuali comunque ogni lunedì, mercoledì e venerdì. La trasmissione ha questo format, ospitiamo, abbiamo ospiti in studio, quando arriveranno gli ospiti in studio, anche quelli di oggi, tra le novità ci sarà appunto questa scelta precauzionale che è stata fatta in accordo ovviamente con la direzione di Rossini TV di indossare la mascherina. Questo è il nostro contributo nel tentativo di arginare sempre di più questa diffusione del virus e di avviarci a un'estate e a un seguito poi della vita che si spera finalmente libero da questi vincoli e da queste incombenze. Come sempre partiamo segnalando il sondaggio del giorno e il sondaggio di oggi è un sondaggio proprio quanto mai a tema. Parliamo del nostro e vostro pranzo pasquale. È stato fatto in casa oppure provenendo dall'asporto? Fate voi la vostra opzione, date voi la vostra opzione. Il pranzo in casa naturalmente fatto in casa ha tutte quelle caratteristiche che gli esperti e le esperte conoscono bene, la tradizione e tutto il resto. L'asporto invece era una possibilità offerta dai ristoranti locali e comunque nazionali di avere un pranzo da ristorante ma portarselo a casa. Scegliete, fateci sapere, oggi è il 7 aprile, 97esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 268 giorni alla fine dell'anno. Il giorno secondo personologi è il giorno della fede entusiasta. Oggi è la giornata mondiale della salute, è stata istituita nel 1950 World Health Day, giornata mondiale della salute. Si celebra il 7 aprile per ricordare la fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta appunto il 7 aprile 1948. Mentre la Chiesa Cattolica celebra San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote, protettore degli insegnanti, fondatore della prima congregazione laicale della storia della Chiesa Cattolica, ha contribuito a standardizzare le pratiche dell'istruzione in Francia. Grande innovatore nel campo della pedagogia, ha scritto varie opere sulla missione dell'educazione. L'evento storico che abbiamo scelto è riferito appunto al 1948, ne abbiamo appena parlato. L'ONU istituisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un istituto specializzato per la salute, fondato il 22 luglio del 1946 e entrato in vigore appunto il 7 aprile 1948, con sede in Svizzera, Ginevra. L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come è precisato nella relativa Costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita dalla medesima Costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto come assenza di malattie o infermità. È membro del gruppo per lo sviluppo delle Nazioni Unite, quanto mai di attualità in questi ultimi mesi, in questo anno lo è sempre stato, ma in questo anno ancora di più. Il pensiero del giorno, i falegnami dicono misura due volte prima di tagliare, e questo è il pensiero su cui riflettere. E andiamo avanti in maniera un po' atipica, apriamo la trasmissione in maniera un po' atipica. Invece di avere già da subito un ospite, oggi vogliamo parlarvi di una storia, che è una storia che nasce sui social. I social sono spesso un po' criticati, in certi casi addirittura criminalizzati, demonizzati, ma alle volte, invece, sarà anche vostra esperienza, danno delle belle situazioni, propongono delle belle situazioni. Oggi vogliamo parlare di Un Sasso per un Sorriso, una iniziativa che sta avendo un grande successo nata dall'idea di Heidi Eilig, spero di aver pronunciato bene il nome, che è di origine svizzera, ma risiede da 25 anni, la vediamo nella foto, nelle Marche, con cittadinanza svizzera italiana. Da due anni adesso lei vive a Recanati, ma prima viveva a Giulianova. Sostanzialmente, questo Un Sasso per un Sorriso è un gruppo Facebook, ed è... ha lanciato quest'idea. L'idea è decorare dei sassi, trovati dovunque, dice il regolamento, meno che in spiaggia, perché c'è una regola internazionale, che dice che dalla spiaggia non si può prelevare niente, neanche le conchiglie, sappiatelo. Però i sassi che potete trovare ovunque, li portate a casa e li potete decorare, e poi rilasciare, lasciare da qualche parte in attesa che qualcuno li trovi. Tutte e due le operazioni, praticamente, dovrebbero, nell'intento, essere testimoniate da una foto postata sul gruppo Facebook. Questa è l'idea, l'iniziativa, sia il rilascio che il ritrovamento. E quest'idea è nata per localizzare, abbiamo fatto una piccola intervista telefonica con Heidi, che però preferisce non intervenire per ora in diretta, e quest'idea l'è nata per localizzare e leggermente modificare quella che era un gruppo svizzero, che si chiamava Rox. Lei l'ha localizzato in Italia, l'ha trasformato anche in parte, perché il suo spirito era proprio quello non solo di far girare i sassi, ma anche quello di donare sorrisi a chi li ritrova. Ecco perché è venuto fuori il nome del gruppo in questo senso. A settembre del 2019 è stato fondato il gruppo con l'idea appunto di donare un sorriso alle persone. All'inizio non è partito proprio benissimo, sembrava non funzionare, i sassi che venivano lasciati restavano lì dove erano, probabilmente la gente pensava che magari non fosse il caso di prenderli e portarli via, che fossero stati dimenticati da qualcuno, persi da qualcuno, non so. Insomma, Heidi ci dice che all'inizio la cosa stentava a decollare, e c'è stato un momento in cui lei era rimasta anche un po' delusa dalla difficoltà, e c'è stato un momento in cui aveva pensato anche di rinunciare, lasciava questi sassi, poi tornava qualche giorno dopo, e si accorgeva che ancora non ero lì, niente si stava muovendo. Poi un giorno è avvenuto un episodio che le ha dato lo stimolo e la forza di continuare, era seduta su una panchina vicino a uno di questi sassi, e ha sentito il grido di gioia di un bambino che l'aveva ritrovato, è bellissimo, lo voglio portare a casa, e questo le ha proprio smosso un po' il cuore, e le ha fatto pensare che l'idea comunque era buona, andava continuata, occorreva perseverare, insistere, naturalmente ha continuato, e ha anche lanciato qualche piccola attività organizzata delle cacce al tesoro. Anche in quel caso funzionava, ma funzionava sempre limitato all'idea della caccia al tesoro. C'era quasi l'esigenza che la cosa venisse comunque costantemente pilotata, e questo frenava un po' la diffusione. Poi, dice Heidi, è successo che la cosa ha cominciato a sbarcare in altre città, qualcuno se n'è accorto, e noi siamo orgogliosi di pensare che Pesaro sia una delle città che ha dato il lancio forte. Sarà un caso, ma da quando la cosa è arrivata a Pesaro, c'è stato uno sviluppo esponenziale nel numero delle iscrizioni. Si è passati da 500 iscrizioni in 4 mesi a 40.000, e questo ha dimostrazione che l'idea era buona e che si poteva anche continuare a lavorarci su. Insomma, questa storia, mentre io parlo, vedete, ci sono tutti questi sassi che sono stati realizzati. Dietro il sasso è necessario mettere gruppo Facebook, un sasso per un sorriso, in modo che ci sia un po' la testimonianza di questo passaggio. Questa cosa è letteralmente esplosa, da 40.000 adesso sono oltre 55.000, ci sono un sacco di città che hanno continuato ad aderire, naturalmente io qui ho un elenco che mi è stato mandato, Pesaro, Fano e via via, ma anche non solo città, anche nazioni, Pesaro, Fano, Senigallia, Cattolica, Rimini, Recanati, Giulianova, però anche altre nazioni, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Germania, Francia, Australia, addirittura c'è stata la necessità di dare una riconoscibilità ufficiale al gruppo, infatti se voi lo cercate, un sasso per un sorriso, ecco questa è la videata, troverete, tra parentesi, originale, perché poi ne sono nati tanti altri, anche localizzati, però questa è una pratica sconsigliata, perché si finisce per polverizzare un po' l'effetto, dividendolo nei vari territori, invece è bello che tutto quello che succede anche sui territori poi venga ricondotto comunque a questa casa madre, che è il gruppo Facebook originale. Voglio leggervi una nota che Heidi mi ha mandato, per mia sorpresa ho notato che questa iniziativa non crea solo dei sorrisi, ma unisce anche le famiglie. I membri raccontano come i bambini si sono staccati dalla tv e insieme con i genitori o nonni si divertono disegnando dei sassi, dopo fanno delle passeggiate per mettere i loro lavori o per cercare i sassi dipinti dagli altri, i sorrisi sono tanti, possiamo dire veramente di aver portato un raggio di sole e tanti sorrisi in una situazione che è tanto difficile per tutti noi, ma soprattutto per i bambini che in questo modo hanno ritrovato un po' di serenità, sia creando sia cercando dei sassi. Queste sono proprio le parole di Heidi Eilig, che non pronuncerò mai bene, Eilig sì, lo pronuncio abbastanza bene, che si avvale adesso nell'organizzazione della collaborazione della figlia Andrea Mancini e della sua amica Laura Biagiotti, che tengono anche in serenità il gruppo, perché quando si deve gestire un gruppo con 55 mila iscritti naturalmente possono venire fuori anche delle difficoltà organizzative e invece tutto sta andando molto bene e naturalmente questo che noi abbiamo detto adesso e che abbiamo promosso vuole essere anche un invito ad andare a scoprire, a partecipare, perché no, con qualche vostra creazione. Io nei giorni scorsi ho visto in effetti questa grande attenzione da parte di Pesaro, nelle pagine Facebook dei vari amici che ho, dei vari contatti che ho, che si sono impegnati, ci sono veramente dei piccoli capolavori, c'è chi fa delle cose in 3D e poi le lavora in un certo modo, insomma ci sono dei piccoli capolavori che voi potete trovare in giro per la città e poi appunto fotografare, a quel punto ottenere oppure rimettere in circolo, perché non c'è un vincolo da quel punto di vista. Sul gruppo c'è un piccolo regolamento che spiega bene una serie di cose che adesso io non sto a elencarvi e insomma abbiamo pensato di aprire questo ritorno alle dirette con una descrizione di questa bella idea che deve funzionare sia per invogliare a partecipare, ma anche perché no, a farsi venire, a farci venire altre tante belle idee semplici che però come vedete possono avere un effetto è un risultato straordinario in quanto ad evoluzione e a espansione. Ecco, questa era la storia con la quale abbiamo iniziato il ritorno alle dirette di Casa Rossini, fra un attimo vedremo di nuovo con noi degli ospiti in studio, appena torneremo in studio indosserò anch'io come i nostri ospiti la mascherina, perché vi ho detto che questa è stata una scelta fatta dalla direzione per contribuire a limitare questa possibilità di contagio. Adesso possiamo andare in pubblicità, credo che l'ospite, ancora l'ospite non è arrivato, ancora l'ospite non è arrivato, allora aspettiamo ancora e ci inventeremo qualcos'altro da aggiungere. Per esempio potremmo parlarvi di quelli che sono comunque gli ospiti della giornata, li anticipiamo già, li diciamo prima, così vi preparate anche voi. Noi saremo fra un po' con Beatrice Pantanelli, la direttrice del Giardino di Santa Maria e concluderemo la puntata oggi con Giacomo Mattioli, presidente regionale del CSI. Con Beatrice Pantanelli sicuramente parleremo di questa primavera che sembrava, fino a qualche giorno fa, essere arrivata, poi stamattina non so se ci avete fatto caso, non so se qualcuno è uscito, io non sono uscito prestissimo, perché per venire qua fortunatamente non devo uscire a ore antelucane, mi basta uscire di casa verso le 9, ma erano 5 gradi. Per cui insomma si stenta un po' ancora a considerare questo periodo come un periodo primaverile a tutti gli effetti. Forse il maltempo dei giorni scorsi ha anche contribuito a farci sentire meno pesante la difficoltà di restare in casa, naturalmente imposta dalle norme Covid, ma siamo sicuri che tra qualche giorno la primavera prenderà il sopravvento ed è giusto che in questo caso ci si ritrovi con qualcuno come Beatrice Pantanelli del Giardino di Santa Maria che ci dà tutte le indicazioni necessarie per trasformare nel migliore dei modi le nostre terrazze, i nostri giardini e tutto quello che ci fa pensare comunque all'arrivo di questa bella stagione e questo che tutti noi ci aspettiamo che sia una bella stagione non solo dal punto di vista atmosferico e climatologico ma anche una bella stagione per quanto riguarda tutto quello che ben sappiamo legato al contagio, alla pandemia, che ci auguriamo tutti che un po' complice il vaccino, un po' complice tutto quello che stiamo in qualche modo mettendo in piedi per quanto riguarda l'attenzione al contagio ci dia la possibilità, perché no, di risolvere e di finalmente poterci liberare di tutto questo che ci ha ormai da un anno bloccato in qualche modo l'esistenza. A questo punto possiamo comunque andare in pubblicità perché nel caso faremo una piccola inversione con gli ospiti visto che il secondo ospite è già qui con noi per cui queste sono le particolarità, una volta qualcuno diceva il bello della diretta, diciamo le particolarità della diretta, andiamo adesso in pubblicità, torneremo subito dopo con uno dei due ospiti, scoprirete voi poi con quale dei due. Restate con noi. Eccoci qua, allora mi avete riconosciuto? Sono sempre io, sono sempre io con la mascherina e sorpresa, delle sorprese rispetto a quanto preannunciato ma in parte anticipato, siamo con Giacomo Mattioli. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Con l'occasione di solito quando facciamo vedere il campo grande ringraziamo anche lo studio, per lo studio Gulliver e anche Tiziano Donzelli che ci ha aiutato ad allestire con tutte le ceramiche che vedete, anche il quadro e tutto il resto. E entriamo nel vivo Giacomo, anche perché prima di tutto grazie per essere arrivato un po' prima e averci risolto l'impasso del primo ospite. No, io devo ringraziare voi per l'invito, quindi grazie mille. Giacomo Mattioli con cui parliamo fra un po', neopresidente regionale CSI, nato il 15 novembre, devi sapere che c'è una tradizione qua. Io ho un librone che si chiama Personology, col quale, anche un po' per creare un certo collegamento con la persona oltre che col personaggio, vado a leggere sui nati il 15 novembre, il giorno dell'incontro e i nati il 15 novembre si trovano spesso a dover fronteggiare impegnative esperienze di vita e intensi incontri con persone che in genere non avevano mai visto prima e dunque assolutamente fondamentale un'attenta opera di preparazione che serva a pianificare opportunamente gli avvenimenti e più in generale a fare in modo che queste persone sappiano affrontare le circostanze impreviste, vedi, sembra fatta a porta per oggi poi in particolare. Esattamente sì. Perfetto. Francesco Rosi tra i nati del giorno, misurato, coraggioso e giusto sono i pregi, insomma direi che come piccolo quadretto iniziale non è male, no? È molto lusinghiero. Molto lusinghiero, ci siamo. Allora, il CSI, vogliamo ricordare, tanto per cominciare, chi è e cosa fa il CSI? Sì, facciamolo subito. Il CSI è un ente di promozione sportiva che nasce nel, anzi prima del dopoguerra, nel 1944, nasce come una risposta, in quel periodo particolarmente difficile, per i giovani soprattutto, per ridargli un obiettivo, un futuro. Chiaramente si era nel momento dell'uscita della guerra, i giovani, oggi ci lamentiamo che i nostri figli e anche noi stessi stiamo chiusi in casa, quel periodo era un po' peggio, diciamo così, e nasce proprio per dare un orizzonte nuovo, per far ricominciare a incontrare, a scambiare esperienze, ad aggregare e a educare i giovani. E quindi da lì si sviluppa una storia, chiaramente decennale, articolata sul territorio, al passo coi tempi, fino ad arrivare al giorno d'oggi. La missione del CSI è quella di educare attraverso lo sport. Perfetto, i più attenti tra i nostri telespettatori diranno, ma io questo discorso dove l'ho già sentito? L'avete sentito perché noi abbiamo ospitato già il presidente provinciale, Marco Pagnetti, che ci ha parlato comunque degli intenti. Tu sei il presidente del comitato regionale, come è strutturato il CSI? Che cos'è il comitato regionale? Cosa fa il comitato regionale? Esatto, il CSI, come tutte le associazioni che si articolano dal livello nazionale fino al territorio, hanno una serie di strutture intermedie. Quindi voi avete avuto ospite il mio amico personale, il mio presidente provinciale, Marco Pagnetti, perché io essendo di Fano sono tesserato con il comitato di Pesaro Urbino, con sede in Fano, e sopra i comitati provinciali c'è il comitato regionale. Sopra il comitato regionale c'è il comitato nazionale, che è quello che dà le direttive e quindi regola l'azione sul territorio. Il comitato regionale, essendo un organismo intermedio, cosa fa? Si rapporta con il comitato nazionale, ma soprattutto cerca di omogeneizzare, diciamo così, l'attività dei vari comitati provinciali sul territorio, in modo tale che tutti più o meno si facciano le stesse cose, con le stesse regole, cercando di perseguire gli stessi obiettivi e le stesse finalità. Le finalità sono finalità nobili, perché si parla di affrontare il tema dello sport dal punto di vista del praticante, cioè si privilegia comunque la pratica, la vera pratica dello sport, indipendentemente dal discorso di vincere, perdere, un po' decubertianamente potremmo dire che per il CSI l'importante è partecipare. Come si riesce a tenere in tempi moderni, in tempi come questi, i praticanti fedeli a questa sorta di patto? Esiste un'interazione, anche uno scambio con le strutture sportive, con le federazioni, con le strutture tradizionali? Cioè come funziona, diciamo, questo mondo dello sport che in qualche modo vi vede protagonisti, ma con un ruolo comunque diverso da quello a cui noi siamo abituati quando guardiamo un derby di Serie A? Certo, sicuramente il modo di approcciarsi allo sport è molto cambiato negli ultimi tempi. C'è necessariamente un travaso continuo tra il mondo dello sport federale e quello degli enti di promozione sportiva, da un senso e dall'altro, nel senso che dove le cose funzionano bene e quello a cui vorrò tendere anche io in questo mandato associativo è quello di instaurare il più possibile rapporti di collaborazione con le federazioni, perché non dobbiamo essere nemici, perché tutti ci occupiamo di sport e tutti vogliamo promuovere la pratica sportiva. Naturalmente, come dicevi te, i fini sono diversi. Le federazioni giustamente devono tirar fuori il campione, il potenziale olimpionico, il potenziale pallone d'oro, queste persone qui. Ed è giusto che lo facciano nei loro ambiti. Noi però ci rivolgiamo tutti quelli che campioni non sono, non saranno mai e probabilmente non vogliono nemmeno esserlo, ma vogliono divertirsi, vogliono stare insieme, vogliono giocare, vogliono stare in forma, vogliono passare del tempo insieme, vogliono socializzare, chiaramente vogliono competere e gli piace anche vincere, ma il vincere non è il fine, è un modo per divertirsi, è un modo per stare insieme, è un modo per educarsi anche alla sconfitta, perché poi quello che si fa nello sport spesso ci rende persone migliori anche nella vita. Io una volta, io ho scritto un libro tra varie cose, in questo libro ho fatto una riflessione, e la riflessione è che qualunque campionato funziona perché c'è una metà delle squadre che vince e una metà che perde, senza le squadre che perdono il campionato non ci sarebbe, per cui comunque è necessario, magari alternandosi, non perdendo sempre e non vincendo sempre, però è necessario il ruolo di tutti, proprio per far funzionare la macchina e far funzionare tutto quanto. Quando questo viene capito anche dai praticanti, perché probabilmente quello è l'ostacolo più importante in una società che viene impostata da subito, dal punto di vista immediatamente competitivo, sia addirittura a cominciare dai bambini, cioè la difficoltà importante è proprio, la difficoltà a rischio di essere insormontabile è proprio quella, cioè farlo capire ai praticanti, far arrivare ai praticanti il senso dell'importanza, del comunque avere un ruolo, anche quando, e questo non vuol dire che bisogna essere rinunciatari e perdere per scelta, vuol dire semplicemente che il gioco è tale anche quando non va nel migliore dei modi che ci si era proposti, questo è un po' lo spirito. Assolutamente sì, chi non sa perdere non sa nemmeno vincere, e questo lo si vede a tutte le età, soprattutto dai più piccoli, e questo è importante che parta come messaggio dai piccoli, non dobbiamo farli crescere solo con la cultura del primo arrivato, della competizione, di essere per forza il numero uno. Devono crescere con la cultura del fare qualcosa, di non stare chiusi dentro casa, adesso dovevano farlo per motivi contingenti, ma di non stare chiusi dentro casa con i videogiochi o semplicemente senza socializzare, senza mettersi alla prova, senza misurarsi con gli altri, perché misurarsi con gli altri è una fonte di miglioramento personale e poi anche collettivo necessariamente. Pertanto lo sport va visto certamente come una cosa che se riesci bene e vinci è chiaro che ti dà gusto, e vuoi anche ripeterti, il meccanismo è un meccanismo incentivante, però deve esserlo anche per chi non vince, che non si deve abbattere e soprattutto noi con la nostra attività vogliamo anche combattere quello che è il fenomeno dell'abbandono precoce, che viene teorizzato sempre da molti studiosi, insegnanti, soprattutto delle scuole medie. Una volta l'abbandono dell'attività sportiva era più o meno quando finivi di studiare alle superiori, andavi a studiare, a fare l'università fuori, se giocavi a qualcosa smettevi perché ti dovevi trasferire. Oggi l'abbandono è alle medie, diciamo da degli studi recenti, e quindi questo vuol dire che molti ragazzini già si stancano, si stufano, si disaffezionano e si allontanano dalla pratica sportiva. Questo è il fenomeno da combattere. Abbiamo imparato appunto nella chiacchierata dell'altra volta con Marco che non c'è un limite agli sport che voi potete promuovere e seguire. Però ci sono delle caratterizzazioni anche territoriali, no? Avendo la responsabilità delle marche, per esempio, si notano degli sport che sono più presenti in certe province e altri invece che sono più presenti in altre province. Dacci un po' un quadro generale della situazione delle marche. Assolutamente sì. Noi per comodità dividiamo gli sport tra sport individuali e sport di squadra. All'interno degli sport individuali e sport di squadra ci sono ad esempio quelli praticati sulla spiaggia e quelli chiaramente sono tipici di tutte le zone balneari. Quindi dalla nostra provincia fino a passare alla provincia di Ascoli Piceno tutti quelli che hanno litorale, spiagge, fanno bis tennis, bis volley e quindi sono forti su questa parte qui. Però ci sono ad esempio delle zone come la provincia di Fermo e anche la provincia di Ascoli Piceno dove va molto forte il ciclismo. Laggiù sono veramente tantissimi gli appassionati di ciclismo, sia su strada che in giro per i boschi oppure per le campagne, che fanno attività di ciclismo. Mentre nella provincia nostra è più praticato anche la pallavolo, il basket, il calcio 5, il calcio 8 e lo stesso anche nella provincia di Ascoli Piceno. Inoltre nella nostra provincia, nella provincia di Ancona, sono presenti ad esempio delle società sportive di ginnastica sia artistica che ritmica, molto valide. E infine anche l'attività di tennis tavolo, il cosiddetto ping pong, che però se glielo dici e li chiami ping pong loro si arrabbiano perché giustamente è come chiamare calcetto il calcio 5. Sono degli sport che hanno una propria fisionomia, una propria identità e sono anche in fase di sviluppo crescente. Quindi diciamo che più o meno gli orizzonti sono questi. Poi ci sono i cosiddetti sport emergenti, che sono una nuova frontiera che il CSI affronta con molto interesse, tra cui c'è il paddle, ad esempio, e c'è il city tennis, che è un ibrido tra un tennis giocato in un campo un po' più piccolo con delle palline un po' più sgonfie e le racchette da beach tennis, che è molto divertente perché non serve essere campioni per giocare, ma è veramente molto uno sport che sta decollando e sul quale anche quest'estate speriamo di investire tanto. Sul city tennis chiaramente mi dai un assist perché il city tennis è stato ideato da Davide, da mio nipote Davide e da Francesco Gazzè, tra l'altro Francesco Gazzè sarà ospite una delle prossime settimane, credo la prossima settimana, e mio nipote Davide lo vedremo nell'altra veste perché lui ha due aspetti, uno sportivo appunto come ideatore e campione del mondo tra l'altro di city tennis, visto che l'hanno costruito loro e lui resta ancora uno dei più bravi quando fanno i tornelli, e vince, e invece è il suo animo da cantautore, per cui lo vedremo dopo, perché vedremo dopo il video, subito dopo la nostra intervista, vedremo il video che ha lanciato da poco. Questi sport emergenti naturalmente trovano subito un terreno fertile in una struttura come quella del CSI, ma ci sono statutariamente degli sport escludibili a priori oppure teoricamente potreste pensare a tutto, non so, al motociclismo per dire insomma? No, teoricamente possiamo pensare a tutto, tant'è che ci sono delle zone d'Italia dove fanno anche sport, chiamiamoli così, che da noi non trovano terreno fertile perché probabilmente non ci sono le condizioni né di numero di partecipanti ma nemmeno economiche per sostenerli. Per esempio in questa breve ancora esperienza da Presidente regionale mi sono confrontato con il mio omologo toscano, che mi dice che in Toscana fanno quelle specie di gare di carretti giù per le discese che si facevano una volta, esatto, i biroccini li fanno ancora e chiedono i permessi ai comuni, chiudono le strade per fare queste attività che sono molto diffuse. C'è l'equitazione che è uno sport seppur di nicchia perché giustamente ha dei costi abbastanza elevati da sostenere per ovvi motivi, che comunque in molte parti d'Italia è diffuso. Per esempio noi stiamo cercando di aprirci anche alla cinofilia, quindi tutto il mondo degli educatori cinofili e delle gare anche di agility per i cani, che è una cosa che sta andando parecchio in quest'ultimo periodo. C'è il podismo e l'atletica leggera che in questo periodo di Covid ha portato tante persone ad andare a correre perché potevano fare solo quello da soli e quindi vede molti praticanti ed è in ascesa. Io sono uno di quelli e quindi diciamo che mi interessa promuoverlo anche perché lo tocco con mano l'interesse che c'è. Quindi effettivamente il Centro Sportivo Italiano come strumento educativo può trovare tutte le attività sportive esistenti oppure le crea addirittura. Noi abbiamo un evento nazionale che è stato fatto una volta sola perché poi dopo è arrivato il Covid che si chiama Wow Festival, che è praticamente una fiera degli sport emergenti. Quindi come ha fatto Davide, come ha fatto Francesco con i City Tennis, ci sono persone che teorizzano nuove attività sportive e provano a metterle in pratica e le pubblicizzano in queste tre giorni per cercare di capire quanto può essere quell'attività, quanto può essere piacevole, quanto può essere accattivante, quanto può essere effettivamente praticata. Allora, sembrerebbe un'attività che ha raggiunto già il top e il massimo, invece tu mi hai detto che hai ancora parecchio da lavorare, hai un sogno in particolare che è quello di far ritornare un po' e di riconsolidare un po' un rapporto che si è leggermente allentato in quest'ultimo periodo, che poi è il rapporto antico da cui tutto era nato, quello degli oratori. Esatto, la presenza del CSI nelle parrocchie e negli oratori. Questo è uno dei punti fondamentali che mi sono dato e che il Consiglio che mi sostiene, che mi sosterrà in questo quadriennio si è dato, che è quello di ricollegare quei fili che per motivi vari sono stati tranciati in parte negli ultimi tempi e quando dico ultimi tempi non parlo di ieri o altro ieri, parlo di una decina, quindicina d'anni, quindi sono problemi strutturali che vengono un po' da lontano, per cercare di riconsolidare la presenza del CSI, come dicevi tu, nei posti dove siamo nati, che sono gli oratori, le parrocchie, i luoghi dove i ragazzi originariamente si incontravano. Diciamo che i problemi non sono nati per colpa di né degli oratori né del CSI, i problemi sono nati perché la società è cambiata e quindi l'oratorio non è più un punto di aggregazione come una volta. Una volta se uscivi da casa andavi con gli amici o al parchetto o in parrocchia, non è che andavi in tanti altri posti. Oggi ci sono altri luoghi di aggregazione, questo da una parte è un bene perché vuol dire che comunque c'è un'offerta diversificata, però manca un po' quel rapporto genuino che si creava tra ragazzi di parietà, con i loro educatori, con i parroci, eccetera. Noi vogliamo, stiamo cercando di lavorare insieme ai comitati provinciali, chiaramente, perché poi questa cosa non è che la fa il comitato regionale, la stimola, ma poi sono i comitati provinciali che la devono realizzare. Stiamo cercando di ricreare una rete di collegamenti per far sì che poi i comitati territoriali, i comitati provinciali siano in grado di fare questa cosa. Quindi personalmente ho preso contatti con l'Arcivescovo di Pesaro che attualmente presiede la Conferenza Episcopale Marchigiana, per cui ci ho parlato, abbiamo condiviso questo obiettivo, lui ci ha nominato un assistente ecclesiastico regionale, quindi il comitato regionale ha un sacerdote, quindi il presidente che sono io, ha un sacerdote che lo assiste in quest'opera, ci confrontiamo e diamo degli input, delle direttive, delle linee guida, degli spunti di riflessione ai vari presidenti per cercare di ritessere questa tela, perché noi lì vogliamo tornare, perché quella definizione di sport che abbiamo detto prima effettivamente si concilia benissimo con il torneo che si fa tra ragazzi in parrocchia, nel campo dell'oratorio. E oltre a questo fronte già ben delineato, almeno a livello di concetto e di idea, ce n'è un altro invece un po' più difficile da affrontare, che è il fronte delle istituzioni in questo momento di pandemia, il DCPM, i vari DCPM, eccetera, eccetera. Come vi stanno trattando le autorità in questo momento così difficile per loro, ma per tutti? Sì, il momento difficile e questo non lo neghiamo, è innegabile, non possiamo dire diversamente, però non siamo contenti, non siamo contenti del trattamento ricevuto, soprattutto con gli ultimi strumenti normativi, in particolare di PCM recentissimo, che di fatto ha fatto figli e figliastri, perché non ha più equiparato come prima l'attività degli enti di promozione sportiva a quelli delle federazioni, ma invece ha creato una corsia preferenziale per l'attività federale, lasciando indietro lo sport di base. E dentro lo sport di base non c'è solo il CSI, ci sono tanti altri enti ugualmente presenti sul territorio, ugualmente importanti, penso alla WISP, penso all'USA, penso all'UXEN, penso a tanti altri enti, quindi siamo tanti, siamo almeno 15 enti di promozione sportiva, più o meno grandi poi a seconda della realtà territoriale, ecco, nelle marche il CSI è molto forte, come ad esempio la WISP o la USAC, in altre regioni è diverso, le proporzioni non sono uguali, però diciamo che siamo tutti arrabbiati allo stesso modo, infatti nei giorni scorsi è uscito un comunicato congiunto dove si sollecita il governo a rivedere questa decisione, dove diciamo perché chiusi solo noi, o tutti o nessuno, chiaramente l'idea del momento, almeno ancora, è quello di star chiusi tutti, perché sappiamo bene cosa c'è in ballo, sappiamo bene che prima viene la salute, è vero che la pratica sportiva favorisce la salute, però è anche vero che eliminare il più possibile le fonti di contagio, almeno fin tanto che non va a regime la campagna vaccinale e non arriva un po' di bella stagione, cosa che in questi giorni in maniera prepotente è stata un attimo rimesa in discussione, ma pare che duri poco, quindi ecco, finché non ci saranno le condizioni giuste per ripartire, noi siamo d'accordo a stare fermi, a stare buoni e a rinviare una serie di attività, però chiediamo che lo stesso trattamento venga riservato anche alle federazioni, perché spesso e volentieri le persone che fanno l'attività sono le stesse, è lo stesso ragazzino che fa l'attività under 18 del CSI, che fa anche l'attività degli allievi federali, è sempre lui, quindi da una parte può giocare, dall'altra no, e non si capisce perché in un verso questo è possibile, in un verso non è possibile, quando spesso anche gli impianti sono gli stessi. Di che numero di praticanti parliamo a livello italiano, tanto per dare un'idea? Dunque, a livello italiano siamo sull'ordine di milioni di persone, nelle Marche abbiamo 400 società sportive per circa 30.000 tesserati, quindi consideriamo che poi ci sono delle zone d'Italia dove il CSI è fortissimo, come ad esempio la Lombardia o comunque la zona del nord Italia, il Lazio, non solo per il numero di abitanti ma proprio per il radicamento sul territorio, quindi stiamo parlando di svariati milioni di persone e uno dei dati che ci fa più piacere è che la metà dei nostri iscritti, quindi più o meno 3 milioni, 3 milioni e mezzo di iscritti, sono minorenni, quindi under 18. Prima parlavamo appunto di questa stretta, di questo tentativo di arginare il contagio, con un obiettivo a termine estate 2021, che è un obiettivo molto chiaro, che è l'obiettivo più immediato che avete, quello dei centri estivi. Esatto, la prima attività che pensiamo che possa ripartire bene, in maniera compiuta, è quella dei centri estivi. Ci troveremo di fronte a una situazione difficile perché adesso, oggi, le scuole hanno riaperto nella nostra regione, i bambini sono ritornati a scuola, tra l'altro stamattina io che accompagno mio figlio in seconda elementare, ho visto tante persone molto mattiniere, quindi molto vogliose di riportare i figli a scuola e di garantirgli questo percorso. E sappiamo che hanno difficoltà che vengono anche dal periodo in cui invece sono stati chiusi in casa, quindi dovrà ripartire bene l'attività dei centri estivi per dare quel supporto alle famiglie che è necessario, perché giustamente le scuole finiranno, i bambini dovranno ricominciare ad aggregarsi, a vedersi, perché i genitori lavorano, hanno fatto tanti sacrifici anche in questo periodo, quindi cerchiamo di rendergli la vita facile, almeno da qui in avanti. I centri estivi sono stati fatti l'anno scorso, sono stati fatti bene, i protocolli per fortuna sono chiari, non sono ancora cambiati. Ci auguriamo che non cambino, almeno non a ridosso della partenza, perché siamo effettivamente pronti a ripartire. Abbiamo tutte le strutture, sia scolastiche, che abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali, abbiamo le strutture private che abbiamo chiesto in gestione per l'estate, per lo svolgimento dei centri estivi. Stiamo formando gli operatori, perché è uno dei temi importantissimi di questa fase, visto che siamo fermi, cosa facciamo? Giriamo i pollici? Naturalmente no, ci formiamo, che è una delle poche cose che si possono fare anche a distanza, con gli strumenti di videoconferenza, eccetera. Anche se in presenza è più divertente, forse anche più fruttuoso, però i tempi sono questi, sfruttiamo le tecnologie. Quindi in questo momento stiamo formando decine e decine di persone, proprio sia sulle normative legate al Covid, sia sulle tecniche di gioco attualizzate ai tempi del Covid, perché tu non puoi più fare quelle attività sportive che facevi prima, stante le limitazioni, e quindi ci siamo reinventati una serie di attività per declinarle rispetto al periodo che stiamo vivendo, renderle comunque piacevoli per i bambini, renderle divertenti, e fargli quindi passare un'estate all'insegna del gioco, della socialità, dell'aggregazione, seppure nel rispetto di tutte le normative. Come vedete ci sono lavori importanti, ci sono concetti importanti e realizzazioni e impostazioni importanti da parte del CSI. Io direi che a questo punto noi possiamo concludere dando un riferimento a quelle che sono le coordinate. Cioè cosa deve fare il telespettatore a casa che si è incuriosito e si vuole avvicinare al CSI, o come praticante, oppure in questo caso, su quest'ultima cosa che abbiamo detto, per iscrivere i propri figli a uno dei centri estivi. Insomma, le coordinate per dare una chiusura concreta anche a questa nostra bellissima chiacchierata. Certamente. Il modo più facile è quello di mettersi in contatto con il proprio presidente provinciale. Quindi nella provincia di Pesaro Urbino il comitato ha sede a Fano, il presidente Marco Pagnetti, uno cerca sul sito internet, ci sono i numeri di telefono, le email da contattare, va su Facebook, c'è la pagina CSI Fano e trova comunque tutti i riferimenti anche lì, può interagire facendo domande, ci sono già fuori i moduli per mandare l'iscrizione, i numeri di telefono, come dicevo, da contattare, nelle altre province è uguale, perché quello che succede nella provincia di Pesaro Urbino succede anche nelle altre province, e quindi ci sono i vari referenti provinciali che si può contattare per capire i luoghi dove verranno fatte le attività, che sono in via di aggiornamento, perché man mano che le amministrazioni comunali ci danno le disponibilità delle varie scuole, dei vari plessi, che noi abbiamo chiesto già da mesi, poi aggiorniamo la nostra offerta. E poi chiaramente anche i costi, perché immagino che le famiglie vogliono sapere non solo dove, non solo quando, ma anche quanto si spende. La nostra politica è quella di non guadagnare niente, non ripagarci i costi, perché il CSI è un ente di promozione senza scopo di lucro, quindi tutto quello che eventualmente una famiglia investe pagando nella quota di partecipazione sa che serve solo a coprire le spese, perché noi per statuto non possiamo guadagnare, quindi il nostro scopo è quello di dare un servizio senza guadagnarci sopra. Bene, allora io direi che abbiamo fatto una bella panoramica, più o meno ci eravamo detti tutto. Mi sono dimenticato qualcosa, Giacomo? No, credo di no, ci siamo stati bravi. Ce l'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatto. Siamo sicuri che con questo secondo incontro con uno dei responsabili, in questo caso lo ripeto, lo ribadisco, col presidente regionale CSI, sia stata data una panoramica quanto più ampia possibile di quello che è l'attività così importante fatta dal CSI e in generale dagli enti di promozione sportiva. Se avete delle domande anche per i prossimi giorni potete mandarcele usando gli strumenti, i contatti che vedete anche sullo schermo 351 708 9977 o casarossini, chiocciolarossinitv.it Giacomo resterà qui con noi ancora per un po', ma poi andrà via e comunque gli faremo avere tutti i vari contatti e siamo qua comunque disponibili con la redazione anche a rispondere a eventuali vostre domande. Ancora grazie per essere stato con noi e magari ci sarà un'altra occasione nella quale ci verrai ad aggiornare su quello che sono gli sviluppi perché poi qui viviamo un po' la giornata e questo ci dà la possibilità comunque di avere la necessità, ma è una necessità che ci piace, di rivederci con gli ospiti per poter andare avanti con gli aggiornamenti e man mano che succedono novità e arrivano novità e succedono cose. Molto volentieri, sicuramente. Mi ha fatto molto piacere, quindi ringrazio la redazione, ringrazio te per avermi accolto in questo bellissimo salotto e magari dopo l'estate faremo un bilancio di quello che sarà successo in questi tre mesi che ci aspettano. Benissimo. Allora, noi adesso andiamo, abbiamo un po' di cose da dirvi e poi andiamo in musica perché abbiamo visto che la nostra ospite è arrivata e ci ha anche riempito lo studio con cose che vedremo fra un po'. Intanto pare che abbiamo lanciato un sondaggio sul pranzo di Pasqua e abbiamo detto fatto in casa o da asporto, al momento il fatto in casa vince al 100%, per cui evidentemente la maggior parte ha approfittato per organizzarsi da sola con la crescita di Pasqua, lo ho benedetto, il salame, insomma tutto quanto. Ringraziamo tutte le persone che ci seguono dai nostri social, sono, alcuni di loro sono Verusca, Alessandro, Emanuele, Lisa, Yvonne, Giovanni. Ricordiamo anche un'altra cosa che il 14 aprile avremo con noi Roberto Bartolini, in sintesi potremmo definirlo grafologo, ma è una definizione incompleta perché lui è molto di più che grafologo, è uno studioso di quanto il gesto dello scrivere abbia delle caratteristiche e possa rivelare chi siamo nel profondo. Per cui se volete mandarci anche quattro righe, dieci righe, dieci righe, dieci righe scritte a mano naturalmente perché se le scrivete al computer servono a poco, scritte a mano e scansionate, le potete fare o anche fotografate, le potete mandare ai nostri contatti 351 708 9977 o casarossini, chiotterossintv.it e Roberto Bartolini il 14 darà i suoi responsi naturalmente prima li mandate e meglio è. Adesso andiamo con la pausa musicale e vedremo rivoluzione artistica appunto questo nuovo nuovissimo video lanciato una settimana fa da Davide Pagnini che ha raggiunto già a oggi oltre 45 mila visualizzazioni su YouTube, un bel risultato tra i migliori di tutta la sua produzione. seguitelo insieme a noi e poi torneremo subito dopo con Beatrice Pantanelli dal Giardino di Santa Maria. Giacomo, grazie ancora, buona giornata e buon proseguimento. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Propongo una rivoluzione artistica a chi si iscrive a un corso di comunicazione o di comune indicazione propongo di scrivere su qualsiasi piattaforma una frase, un discorso che non sia il solito copia e incolla ma che venga da dentro e concluda dicendo non sono un involucro vuoto io sono la forma e il suo contenuto ci vuole autostima per crescere ci vuole autostima per non credere ci vuole autostima per piangere ci vuole autostima per vincere ora vai 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 propongo una rivoluzione artistica alle donne senza nome ai pittori di case a chi mastica al cingomme dopo colazione davanti a una bella collezione propongo di scattarsi una fotografia e condividerla con tutti così com'è sei più bella stroccata o magari sincera i trucchi lasciamoli ai maghi quando li paghiamo per essere ingannati ci vuole autostima per crescere ci vuole autostima per non credere ci vuole autostima per piangere ci vuole autostima per vincere per tutto il tempo che ti resta sei un rivoluzionario artista non parlo di canzoni o melodia non parlo non parlo di poeti o fantasia io parlo di te quando non temi quel commento io parlo di te quando ti metti a nudo in un confronto parlo di te quando non te ne frega niente di tutto quello che possono pensare non parlo di te ora vai 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 eccoci allora stavamo appunto commentando questo video di davide abbiamo appena finito di vederlo e siamo qui con beatrice pantanelli eccoci qua buongiorno a tutti buongiorno a te paolo e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando facciamo le cose serie direttrice del giardino di santa maria di santa maria bene allora un'occhiata allo studio per far vedere che cosa ci ha importato perché guarda guarda che roba hai trasformato questo è il giardino di casa rossini di casa rossini allora sarebbe quasi inutile che io tenessi questa cartellina ma la tengo ormai è la mia coperta di linus come si dice benissimo però in realtà noi abbiamo cose da dire che sono talmente evidenti prima di tutto per le piante che abbiamo qua e poi per la stagione verso la quale stiamo andando che quasi quasi gli appunti non servirebbero allora tre gradi fuori brava e la neve in giro però vabbè era da lì che volevo parlire partire io quando ho pensato a oggi ho detto ma perfetto la riapertura con le dirette la stagione bellissima la primavera ormai fantastica giardino giardino stamattina appunto tre gradi tre gradi e la neve nelle colline esatto per cui insomma dai però 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 il periodo noi ci sentiamo in primavera lo stesso ci sentiamo in primavera lo stesso c'è questo ritorno anche di voglia c'è tanta voglia di di verde di giardini di prati di terrazzi di queste cose qua tantissime l'abbiamo notata già l'anno scorso ma quest'anno proprio esplosa il desiderio di contornarsi di bellezza di verde di cose naturali di cose vive e sempre di più le persone hanno bisogno anche in casa o nel loro terrazzo nel loro spazio verde di avere delle cose belle di avere un giardino curato un luogo accogliente dove poter magari mangiare fuori o magari solo sostare prendere il sole e quando c'è naturalmente e però godere di questo verde allora questo verde contrappuntato comunque da tanti colori perché chiaramente sì un giardino fatto di fiori quando ci siamo sentiti al telefono perché questa è la terza volta ormai che ci vediamo terzo quarta terza terza volta che ci vediamo la domanda ovvia è di cosa parliamo questa volta e tu mi hai detto voglio parlare di piante gustose mi hai detto questa cosa strano non si vede la risata uno le mangia ho visto qualche tempo fa che c'era una trasmissione televisiva dove c'erano i fiori da mangiare ed è detto no 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 le piante gustose poi te lo spiego cosa sono il tema comunque della puntata è incentrato sulle hortensie hortensie allora adesso te ne dico una tu sai che hortensia è anche un nome proprio ho sempre il terrore delle tue domande è anche no no ma questa è proprio ti svelo una cosa chissà se la sapevi già vediamo e hortensia è un nome proprio tra l'altro c'è anche al maschile c'è anche hortensio se il significato letterale vuol dire coltivatore di giardini pensa a te bellissimo no pensa che bello sono riuscita con me la cosa hai detto una cosa dal latino probabilmente c'era questa famiglia romana james hortensia che in qualche modo probabilmente aveva abilità particolari nelle coltivazioni e da lì è venuto fuori e il significato letterale del nome hortensia e hortensio e coltivatore di giardini bellissimo meglio di così meglio di così non potevamo cominciare anche perché poi invece l'ortensia chiamata così porta il nome di una donna e pare almeno la leggenda racconta che un esploratore conoscitore e scopritore di piante avesse un amante che si chiamava hortense e ha dato quando ha trovato questa pianta le ha voluto dare il suo nome in realtà loro sono delle idrangee in latino diciamo che sappiamo della loro presenza dall epoca ming andiamo in cina in asia cina giappone questi posti qua in malaya sono molte di queste hortensi che vediamo qui sono originari di questi luoghi idrangea è la diciamo il nome che le raccoglie quasi tutte in realtà la loro famiglia e idrangea c'è in questa famiglia idrangea cioè ci sono diverse tipologie di piante anche non proprio hortensi però diciamo che noi conosciamo queste questa è la la tipologia più conosciuta nelle nostre case perché la usiamo come regalo perché la usiamo per abbellire i giardini perché comunque la fioritura tarda primavera estate quindi possiamo avere i nostri giardini molto colorati e poi perché c'è un'altra cosa molto interessante loro fioriscono bene all'ombra o in mezza ombra posti dove altri fiori magari non vengono bene quindi abbiamo questa possibilità in un luogo un po più riparato del nostro giardino del nostro terrazzo qui ho portato varie poi varie specie di idrangea allora intanto cerchiamo di capire cosa vuol dire idrangea idro e geo acqua e terra vuol dire che vogliono la terra bagnata praticamente cioè loro bevono un sacco non sono piante a poca irrigazione cioè loro hanno bisogno di di molta acqua hanno bisogno di un terriccio sciolto cosa vuol dire non duro come il nostro noi abbiamo una terra buona per fare i mattoni ma poco per le hortensie possiamo coltivarle a terra se decidiamo di cambiare loro la terra che hanno intorno oppure possiamo tenerle in vaso perché possiamo tenerle in vaso senza grossi problemi perché hanno delle radici superficiali quindi non hanno bisogno di andare a pescare chissà dove non c'è non è un pino che o un'altra pianta grande che ha bisogno di andare in fondo in cerca dell'acqua quando le radici superficiali quindi si arrangiano bene in vaso detto questo non so se hai delle domande sono sempre pericolose mi piaceva questa idea appunto di queste radici superficiali a cui bisogna dare da bere a cui bisogna dare da bere è quasi un animaletto è quasi un animaletto e lui non dà fastidio insomma non è che te lo ritrovi che spasma io mi sono presa un po di appunti perché non vorrei dimenticare niente quindi abbiate pazienza se ogni tanto butto un occhio sul foglio ma le cose da dire sono tante di queste piante perché gustose uno perché sono proprio piante belle da vedersi che danno un gusto nel giardino ma anche perché con tutte le varietà che hanno possiamo godere intanto dei loro fiori in periodi diversi quindi dalla tarda primavera fino all'autunno con il loro colore e anche la forma e poi perché gustoso per me vuol dire anche che non c'è solo la macrofilla che è la più conosciuta ma ci sono tante altre varietà e della macrofilla ci sono tante tipologie quindi è bello è una pianta gustosa perché ti permette di avere tante possibilità questo sta anche un po nell'altra parola chiave che c'eravamo appuntati al telefono versatili bravo versatili versatili perché abbiamo delle idrangè che stanno al sole idrangè che stanno a mezza ombra e idrangè che stanno in ombra totale quindi è molto interessante allora adesso proviamo a fare una carrellata veramente la domanda di quello che non sa allora mezza ombra vuol dire che c'è un albero sopra o vuol dire che mezza giornata al sole mezza giornata l'ombra per esempio mezza giornata al sole mezza giornata all'ombra soprattutto se il sole la mattina è bellissimo è la posizione fantastica per esempio queste queste macrofilla qua che hanno la foglia rosso scura fioriscono meglio se hanno alcune ore di sole ok per esempio e questa non è fiorita perché ancora non è il suo tempo allora ecco bravo parliamo di un'altra cosa voi vedete delle ortensie fiorite e delle ortensie non fiorite perché questa cosa queste fiorite si no guarda infatti veramente la mascherina ogni tanto ci affoga queste fiorite sono state coltivate in ambienti protetti cosa vuol dire protetti con una temperatura un po più alta e anche alle volte della luminosità indotta da lampade perché perché loro naturalmente non fiorirebbero a pasqua quindi per averle fiorite adesso stanno in ambienti protetti queste che vedete senza foglie invece praticamente sono al naturale vediamo già che ci sono delle varietà con le gemme più indietro e delle varietà con le gemme più avanzate è caduto la copertina esatto la devo tenere la devo tenere cosa vuol dire che saranno più tardive e più precoce no ma guarda capisco benissimo perché anche a me ogni tanto mi vengono dei colpi di tosse incredibili con la mascherina mi scuso ma ecco un bicchier d'acqua forse ci vuole allora dicevamo che ci sono delle varietà più precoce delle varietà più tardive le tardive sono quelle che reagiscono meglio alle gelate tardive come in questo caso che ha fatto freddo in questi giorni quindi una varietà con la foglia già formata potrebbe avere dei problemi quindi rovinarsi un po' sulla rosa di foglie più alta e quindi anche alle volte compromettere la fioritura mentre invece queste piante che hanno la vegetazione molto più indietro la gelata non gli fa niente quindi già capiamo per esempio che queste in posizioni fredde per esempio io la prima volta che le ho conosciute sapevo della loro esistenza ma da noi usavano poco in Olanda che fa freschino c'erano tantissime di queste tipologie di ortensie qual è la differenza tra questa e questa? allora questa è una macrofilla come quella cioè ha un fiore pieno fatto di tanti infiorescenze di fiori sterili cosa vuol dire? che loro non vengono impollinati se andiamo a vedere all'interno dei fiori non so se riusciamo a farli vedere abbiamo i fiori fertili non credo sono proprio nascosti intorno c'è tutta la rosa di fiori sterili che servono per attirare tutti gli insetti impollinatori poi all'interno nascosti ci sono i fiori fertili quindi tutta la massa intorno serve per attirare che bello tutti gli insetti poi invece all'interno sta protetto il fiore fertile che poi porterà il seme perché l'insetto lo sa perché l'insetto lo sa ma anche se non lo sa lui comunque quando va a ruspare in qualche maniera gira gira ce la fa allora dicevamo che queste sono le macrofilla con questo fiore bello a pannocchia tutto pieno di fiore abbiamo però delle altre tipologie di infiorescenza e soprattutto abbiamo delle altre idrangee che fanno la fioritura più tardiva come abbiamo detto e portano delle differenze allora queste stanno al sole l'annabel e le paniculate devo tirarle su in qualche maniera ve le posso far vedere prova eventualmente allora queste le mettiamo sul tavolo così sportiamo tutto il tavolo e siamo a posto allora queste qui fanno una pannocchia a punta vengono dei bei cespuglioni anche alti un metro, un metro e venti e portano delle infiorescenze molto colorate le facciamo vedere perché chiaramente adesso non essendo fiorite facciamo vedere la tipologia del fiore è proprio una pannocchia allungata di questa pianta per esempio io sono molto contenta di averla scoperta e di consigliarla perché? perché è facile la potatura perché un'altra cosa molto interessante dell'ortense è la potatura allora loro anche se le tagli a 20 cm a febbraio loro ti fioriscono se la idrangea macrofilla la tagli a 20 cm in primavera non ti fiorisce perché lei porta i fiori sul ramo legnoso dell'anno precedente quindi è anche lì più complicata la potatura capisci che questa io vado con la motosega la taglio non c'è problema e invece queste qui ci vuole un'accortezza diversa dicassi la stessa cosa di queste qua le annabel che sono arborescens sempre un'altra specie diversa di idrangea fanno un fiore rotondo ma ne portano tanti ed è bellissima questa serve anche per fare masse nelle aiuole serve per anche nei vasi sta benissimo perché comunque appunto abbiamo detto che lei si adatta bene ai vasi e anche lei ha una facilità di potatura perché basta tagliarla veramente a 20 cm e lei fiorisce e in onda di fiori scusa della fioritura quale sarebbe? allora qui siamo intorno a giugno-luglio e la durata? la durata è quasi fino a settembre-ottobre dopo lì dipende un po' dai climi per esempio non so adesso un aneddoto mia suocera ha due vasi meravigliosi in Friuli noi quando andiamo in settembre è ancora tutta fiorita perché chiaramente lì le temperature è vero che d'estate è caldo però piove più spesso è un pochino più freschino quindi riesce a protrarre la fioritura fino a tardi ok? ti ho interrotto scusa ma no, spero di non fare pasticci o confusione perché giustamente questa è ancora più tardiva cioè questa comincerà fra un po' diciamo a mettere sulle fiorescenze però diciamo che giugno fiorisce questa potrebbe fiorire anche luglio-agosto poi per esempio ci sono delle tecniche per farle fiorire più tardi bisogna potarle di nuovo però insomma diciamo che il loro periodo è questo e veramente sono gustose perché fanno belli giardini fanno belli terrazzi queste due varietà possono stare queste due specie possono stare al sole quindi già questa è una cosa bellissima perché le ortensie di solito stanno ombra o mezza ombra invece queste qui possono stare al sole finisco di raccontare le ultime che ho qui poi magari parliamo delle tecniche di coltivazione dei terricci anche delle concimazioni e delle malattie possibili che possono avere queste piante grazie allora questa che è una grazie questa che è una quercifoglia arriva anche a tranquillamente due metri e mezzo tre metri con delle bellissime infiorescenze a pannocchia questa in particolare la varietà snowflake ha il fiore doppio di solito le infiorescenze sono a fiore semplice e hanno dei fiori molti fiori sterili e molti fiori fertili quindi diciamo che si vede di più la pannocchia interna questa in particolare invece ha questa bella produzione di fiori tutti doppi quasi non riesce a tenerli su quindi ricadono un po' come il glicine è un po' ricadente perché non ce la fa tenerli su da quanti sono questa è una pianta che sta quasi può stare sia in ombra totale che in mezza ombra quindi abbiamo detto mezza giornata di sole e mezza di ombra oppure un'ombra luminosa sotto un albero prende la luce ma mai diretta però luminosa questa per esempio vedete ha il legno sul ramo già questo dice che ha bisogno di avere una certa una certa consistenza quindi non va potata o va potata solo per dargli una forma diversa da quella che lei naturalmente ha quindi diciamo che le potature sono facili taglio tutto medie taglio un po' non poto la mia preferita perché ho già l'idea che uno deve tagliare a parte che tocca saperlo fare ma poi è vero comunque tagli un pezzo allora no ecco questo guarda bisogna che lo diciamo la potatura le piante non è come tagliare un pezzo a noi che non ricresce a loro serve per sfoltire per dargli una una sistemata e portarli a una forma che ci interessa di più serve per rinforzarle per esempio alcune fanno tanta vegetazione crescono 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 poi non ce la fanno più a tenere e poi si spezzano da sole quindi tanto vale aiutarle perché l'uomo non è sempre invasivo con la natura è anche di aiuto e l'aiuto è ripulire la pianta dalle cose secche non so diminuire il peso dei rami quindi riusciamo ad avere una pianta più leggera che riesce a sostenersi meglio per cui non è sempre cattiva l'azione dell'uomo cioè adesso c'è questo concetto l'uomo quando interviene sulla natura è cattivo no è una potatura serve la potatura serve per esempio nelle rose è fondamentale se tu non poti le rose loro non portano frutto non portano fiore o lo portano meno di quello che potrebbero portare quindi è un intervento che noi facciamo per migliorare la pianta in sé non per deturparla o fargli del male l'ultima che vi racconto come specie anzi come varietà questa perché questa è sempre una macrofilla lei si chiama runway bride ok la sposa che fugge la sposa che corre cosa ha di particolare mi piace molto perché è una pianta selezionata da barney cosa ha di particolare se vedete intanto è precoce perché ha già tutti i boccioli per fiorire poi ne porta tanti più piccoli rispetto a una macrofilla normale e cosa ha di carino adesso questa è stata potata per essere rinfortita ok fa dei rami lunghi quindi se messa in un vaso un po' alto tende un po' a ricadere quindi ha questa forma morbida quasi un po' giapponese e si riempie di fiori anche nelle gemme più laterali invece che portare il fiore solamente sulla cima della gemma se vedete qui c'ha un fiore qui e poi ha due, tre, quattro infiorescenze anche su rami più bassi esatto quindi si riempie di fiori chiaramente più piccoli perché anche la natura appunto si difende così fiori grandi pochi fiori piccoli tanti però è molto vestita non è una pianta spoglia con tre fiori questa ne fa 50, 60 per volta più piccolini ma si riempie totalmente questa sono particolarmente affezionata perché quando l'ho vista l'ho cercata ha detto la voglio mi piace la devo avere diciamo che noi abbiamo diverse persone innamorate delle ortensie che vengono e dicono ascolta hai qualche varietà nuova perché sono collezionisti quindi l'ortensia può essere anche usata da collezione come le rose perché è veramente esatto quella mi manca insomma e poi se appunto se vedi dunque aspetta che adesso mi ricordo la corcifoglia viene dall'usa dall'americana poi le altre vengono normalmente tutte dalla Cina, Giappone, Corea, Himalaya un'altra usa mi sembra che sia aspetta eh ecco sì l'arborescence e la paniculata dovrebbe essere usa aspetta perché no la paniculata c'è nel Giappone la corcifoglia e la arborescence ecco perfetto abbiamo individuato le due americane le altre sono tutte asiatiche quindi c'è una bella ricerca sono talmente perso si è perso che non mi sono accorto che il tempo è volato oddio siamo quasi anzi abbiamo sforato d'altra parte è la prima volta che si torna in diretta quando si torna in diretta la prima volta siamo così contenti, gasati che non sappiamo più c'è un po' di gasamento e c'è un po' la necessità di risettare l'orologio interno quello che ci fa capire l'orologio interno allora dai troviamo un bel sunto un bel sunto allora queste piante gustose e abbiamo detto versatili che possono stare al sole mezzo sole e ombra schietta ombra schietta vuol dire ombra proprio ombra totale hanno poche malattie quindi insomma si difendono abbastanza bene bisogna stare attenti con il terriccio perché loro quasi tutti vogliono questo terriccio acido che si compra già fatto inutile andare a mischiare eccetera eccetera amano l'acqua e danno una gioia incredibile per cui io sono innamorata dell'ortensia anche se non sono a bassa manutenzione perché comunque un assortimento di fiori di forme così insomma non è facile trovarlo in altre tipologie di piante senti ti lancio una proposta sono sicuro che ti piace man mano che fioriranno ci fai delle belle foto e ce le mandi e noi le mandiamo in apertura di puntata quando ci arriveranno ricordando che ce le hai mandate tu caro io spero di venderle tutte però se non le vengo te le mando benissimo allora a chi le vendi dirai se fai una bella foto della fioritura mandatemi le foto mandi al 351 709 77 e a quel punto le pubblicheremo perché adesso chiaramente l'unica cosa che mi è rimasta a questo punto è la grande curiosità di vedere le fiorite poi le hai descritte che quasi le abbiamo viste però poi bisogna vederle ho cercato a parole bisogna provarci molto bene molto bene benissimo allora augurandoci anche noi che tutte queste piante che vediamo qua tutti questi fiori che vediamo qua trovino presto una casa una casa alla loro casa naturale che è il giardino di Santa Maria che le cura con amore esatto noi ringraziamo Beatrice Pantanelli per essere stata con noi sappiamo che tornerai 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 con altre idee con altre piante con altre proposte noi abbiamo concluso questa prima puntata del ritorno con mascherina che avete visto un po' di difficoltà ma è una scelta ben precisa per limitare sempre di più queste occasioni di contagio e cercare di uscire con la complicità anche del vaccino da questo inghippo nel quale siamo capitati veramente dal quale non vediamo l'ora di uscire grazie ancora l'appuntamento con i nostri telespettatori è per venerdì per la diretta e per tutte le repliche agli orari consueti seguite sempre le puntate di Casa Rossini e in generale tutta la programmazione di Rossini TV partecipate ai nostri sondaggi non ci sono aggiornamenti siamo a posto Beatrice grazie ancora grazie a te Paolo veramente a tutto lo staff buona giornata grazie a tutti